Benvenuti al nostro telegiornale, la prima pagina è dedicata alla cronaca, un autista della EMT a Catania, degli autobus urbani, è stato aggredito ieri sera in pieno centro, stamattina l'ho incontrato per noi, Sara Reinaudo, sentiamo la cronaca di questo fatto. Pestato da un gruppo di ragazzi saliti a bordo del bus senza biglietto e finito all'ospedale, il suo occhio è salvo per miracolo nel corpo, si ritrova a lesioni varie, stamani uscito di casa con gli occhiali scuri, è ancora scosso Franco Antonio, autista catanese della EMT, l'azienda metropolitana Trasporti di Catania, picchiato selvaggiamente ieri pomeriggio, mentre era alla guida del mezzo pubblico sulla linea che passa per Corso Italia nella Catania Bene. Mandavamo i titoli di viaggio, questi ragazzi non ne avevano, abbiamo domandato i documenti, i documenti non ne avevano, poi con parole un po' pesanti, oppensive, molto oppensive, le successe passiamo arrivati per le mani, mentre che si discuteva con questo ragazzo, uno di colore, si alza e mi spera un pugno nell'occhio sinistro. Un'unica colpa, aver compiuto il proprio dovere anche con chi non è avvezzo alla legalità, ma sono tanti. Con che stato d'animo andate a lavorare? Queste cose sono all'ordine del giorno? Purtroppo noi andiamo con uno stato d'animo a lavorare, quando mettiamo la firma già cambiamo di umore, già ci prendiamo di nervi perché sappiamo cosa andiamo incontro, perché lei è anche una donna che sembra di essere una donna di una certa elevatura, appena gli domande il biglietto lo manda a quel paese. Gli squilibrati, due giovani probabilmente dell'Interland, è un extracomunitario. Dopo aver colpito si sono dati svelti alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La vittima se la caverà con 10 giorni di prognosi, almeno questa volta, ma la ferita più grande è l'amarezza. L'amarezza che c'è, e che non siamo tutelati, questo è il problema. La politica adesso va in porto, un accordo tra NCD e PD in ambito regionale, ma non ci saranno novità in giunta. Filippo Romeo. C'è l'accordo tra il Partito Democratico e il nuovo centrodestra in Sicilia. Anche all'Ars sarà dunque proposta l'alleanza già sperimentata a livello nazionale. Nessun ingresso nella giunta Crocetta, almeno per il momento, puntualizzano gli esponenti del partito di Alfano, ma solo l'appoggio esterno all'esecutivo su alcuni temi. Riunione ieri a Palermo a Palazzo dei Normanni del gruppo NCD con i coordinatori regionali Giuseppe Castiglione e Francesco Cascio e con il responsabile nazionale degli enti locali, Dore Misuraca. Stabilita l'apertura nei confronti dei democratici su riforme, risanamento finanziario, crescita e occupazione lavorativa e servizi pubblici locali, energia, gestione dei rifiuti e servizio idrico integrato. Il tutto in vista della Costituzione di aria popolare, con l'unificazione dei gruppi parlamentari di nuovo centrodestra e Udc, come già avvenuto a Roma. Prevista nei prossimi giorni una riunione con i vertici regionali di PD e Udc per elaborare un piano condiviso che, si legge in una nota diffusa alla termine del vertice di ieri, mette al centro la risoluzione dei mille problemi che ancora attanagliano il nostro territorio, accanto ad un reale sviluppo sostenibile che passi anche attraverso l'impegno dei fondi comunitari e la realizzazione delle necessarie infrastrutture. L'intesa con i democratici potrebbe subito tradursi per il nuovo centrodestra in nuove presidenze di commissioni all'Ars. Positivi commenti a questa scelta degli alfagnani di Udc e PD. Apprezziamo la scelta del nuovo centrodestra di aprirsi al confronto sui temi delle riforme e dello sviluppo, ha affermato il segretario regionale dei centristi Gianluca Miccichè, e un gesto di responsabilità ha aggiunto che più volte in questi mesi abbiamo auspicato e sollecitato dello stesso tenore la dichiarazione del segretario siciliano del PD Fausto Raciti sin dalle ultime elezioni amministrative ha rilevato sollecitiamo un percorso che dia all'esperienza siciliana la stessa velocità di quella nazionale, orientando le nostre priorità allo sviluppo e al superamento delle anomalie che da troppo tempo caratterizzano la nostra regione. Approfondiremo questi temi, ha sollecitato Raciti, negli incontri ufficiali già da questa settimana, convinti di poter condividere insieme scelte importanti per il futuro della Sicilia. Di tono contrario invece le affermazioni di Forza Italia, il cancro del ribaltonismo, ha affermato l'europarlamentare Salvo Pogliese, continua a persistere all'interno dell'ARS ed anzi sembra diffondersi anche in quei deputati che fino all'altro ieri gridavano all'inciucio e si stracciavano le vesti innanzi al precedente governo regionale, eletto con i voti del centrodestra e che poi ha abbracciato il centrosinistra, ma la coerenza, ha concluso Pogliese, è ormai un optional ed è evidente che l'amore per Poltrone e Strapuntini è più forte di ogni dignità. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca giudiziaria ascoltando le digrazioni dell'Avvocato Libera in riferimento ad una delle vicende giudiziarie che più hanno tenuto banco negli ultimi tempi, Sara Rinaudo. 21 anni e 6 mesi di carcere. La condanna è chiesta dal PM Alessandro Larosa per Giuseppe Caruso, il pensionato di Mascali imputato di omicidio volontario nei confronti del 27enne Roberto Greas, ucciso nell'aprile 2013 da 4 colpi di pistola esplosi dal 70enne che lo sorprese nella sua campagna di notte. Alla richiesta si sono associati i legali delle parti civili, ma per la difesa all'anziano non è un assassino e va assolto. Omicidio volontario secondo i PM? Non stare in cielo né in terra. Il Caruso è agito per difendersi, quindi è legittima difesa. L'imputato deteneva legalmente la pistola, ma per un omicidio diverso dalla campagna, indotto a vigilare sulla sua proprietà e continui furti, ortaggi, ma anche mezzi agricoli, ha raccontato di essere stato prima aggredito dal giovane pregiudicato e dalla colluttazione sarebbero partiti i colpi fatali, ma per l'accusa il delitto vendetta sarebbe stato pianificato. Io immagino che anche a Mineo, se quei due anziani, l'anziano si fosse difeso, avrebbe ucciso quel balordo che ha ammazzato lui e la vecchietta, sarebbe stato arrestato e sarebbe stato sotto processo. Allora io dico che meglio un brutto processo che un bel funerale. La sentenza attesa per il prossimo 27 ottobre. E adesso occupiamoci di pedofilia, firmato un importante protocollo d'intesa stamattina tra la polizia postale e di pediatri. Sentiamo Daniela Cantarella. Spiegare, controllare, chiedere, stabilire, non consentire. Eccole le parole chiave che devono far parte del DNA di un genitore alla luce dei sempre più frequenti pericoli a cui i minori sono esposti navigando in internet. Definiti i nativi digitali, le nuove generazioni camminano a braccetto già dalla scuola primaria con dispositivi di ultimissima tecnologia come smartphone o tablet. Strumenti utili da un lato, ma anche pericolosissimi mezzi che possono aprire al mondo le vite private dei più piccoli, esponendoli a pedofilia, ma anche alle ultime tendenze come le pratiche di sextino, l'autoerotismo. Pericoli che da oggi saranno ulteriormente fronteggiati con un'azione di prevenzione e tutela che vede uniti in un protocollo di intesa la Polizia di Stato e la Federazione Italiana Medici Pediatri di Catania. Stamane in conferenza stampa il questore di Catania Marcello Cardona con il dirigente del compartimento di polizia postale Marcello Labella e il presidente della FMP Giuseppe Mazzola hanno presentato un decaloco di dieci consigli rivolti ai genitori dal titolo Non lasciamoli naufragare. Poche semplici regole per aumentare il livello di sicurezza contenute in questi manifesti e brochure che verranno diffusi in tutti gli ambulatori pediatrici e nei reparti ospedalieri della provincia di Catania. Esemplare la prima regola su tutte del decalogo mamma e papà sono invitati a condividere dispositivi con i propri figli navigando insieme e consigliandoli e mostrando loro tutti i pericoli. Questo protocollo che significa per noi prossimità che significa la specializzazione ulteriore della polizia postale non solo per le tipiche attività di polizia giudiziaria ma in una specificità che va verso la società e verso una costruzione di giovani, quindi futuri uomini importanti nella nostra società, forte e consapevole. Dottore Labella, quali sono i dati ad oggi della pedofilia in rete? I dati, pur non essendo allarmanti, sono dei dati importanti. C'è ovviamente un fenomeno da tenere sempre sott'occhio che non riguarda solo i pedofili ma riguarda i bambini direttamente il coinvolgimento nelle pratiche di sexting, di selfie, di autoerotismo, di discorsi sessuali che si fanno anche tra coetani. E questo è un fenomeno ovviamente che deve essere vigilato, deve essere controllato e i primi attori di questo controllo devono essere i genitori. E adesso andiamo ad Acci Catena dove una casa confiscata è stata donata alla chiesa di Acci San Filippo, come ci racconta Salvo Coturi. Un appartamento confiscato alla mafia è passato nella disponibilità dello Stato e è stato assegnato all'associazione Liberamente di Sebastiano Ficchiera che opera in stretta collaborazione con la parrocchia Il Parco della chiesa di Acci San Filippo nel comune di Acci Catena, Alessandro Di Stefano, che stamani ha aperto le porte dell'abitazione e le nostre telecamere. Si tratta di una signorilla residenza a terzo piano di questo edificio di via Marchesi di Casalotto nel centro storico che si estende su una superficie di circa 100 metri quadri distribuiti su quattro camere, una capiente cucina e doppi servizi. L'affidamento della durata di dieci anni consentirà di avviare progetti di ascolto e sostegno dei tanti giovani del territorio, molti di loro particolarmente attivi nella parrocchia. I locali verranno occupati da tre suore dell'Ordine delle Oblate e del Sacro Cuore di Gesù. Il bene è soltratto alla malavita organizzata e affidato all'ente di beneficenza locale e anche a merito del sindaco Meisano che ha accelerato l'itere di affidamento dialogando con gli organi competenti come l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e la mafia che ha accolto l'istanza del consorzio tra i comuni dove sono presenti diversi edifici confiscati dalle organizzazioni criminali. Un importante passo in avanti verso l'affidamento degli altri mobili confiscati presenti in tutto il comune di Acci Catena. Vogliamo fare una buona vita, dalla malavita passare alla buona vita. Lo utilizzeremo prima di ogni cosa per accogliere le suore e poi essere un punto di riferimento nella parrocchia e nel paese tutto per i giovani e i meno giovani e per tutte quelle situazioni di cui hanno bisogno una parola di conforto e il soltengo da parte dell'Associazione della Parrocchia. E adesso andiamo a Cireale dove la chiesa di San Michele nell'omonimo quartiere ha dei problemi di staticità. Stamattina un soprolluogo seguito per noi da Salvo Couture. Dopo un tiro e molla durato quasi un anno tra curi e amministrazione comunale di Acirale è stata la prefettura di Catania a sollecitare la messa in sicurezza della chiesa di San Michele nell'omonimo quartiere periferia sud della città chiusa al culto per l'anagibilità e l'accidimento di alcune strutture murari interne crollate per le conseguenze del terremoto degli anni passati e la infiltrazione di acqua piovana. Il rischio è che qualcuno si faccia male davvero e concreto così dopo mesi di dialogo e qualche piccola frizione tra diodice sia ufficio tecnico sarà il comune ad effettuare le opere di messa in sicurezza della storica chiesa in danno alla curia costretta a rinviare gli interventi di consolidamento strutturale della bellissima chiesa dedicata a San Michele per mancanza di fondi propri. I fedeli che da tempo chiedono la riparazione delle parti ammalorate e la messa in sicurezza di quelle pericolanti adesso sperano in un intervento risolutore che consenta di riaprire a culto la chiesa e in tutta sicurezza. L'assessore competente, Rory Pietro Paolo promette un piano a sicurezza celere e risolutivo. Come uffici comunali, gli uffici tecnici stiamo provvedendo e a breve, nei prossimi giorni partirà la gara e quindi ci attiveremo subito per mettere definitivamente in sicurezza questa chiesa anche perché questa chiesa sporge su una strada che è molto trafficata e quindi per un pericolo enorme per i passanti. Quindi nei prossimi giorni cominceranno i lavori con ovviamente la messa in sicurezza in danno alla curia visto che siamo stati costretti ad agire in questo modo. E restiamo a Cireale dove sono sorte delle polemiche per il crollo di un muro all'interno di un edificio storico nel cuore della città. Ci racconta tutto, salvo Couture. Il Partito Democratico di Ecireale solleva la questione sui lavori all'interno di questo edificio ottocentesco ubicato in via Cavour da settimana oggetto di lavori edili che non dovrebbero essere consentiti nel centro storico della città nel rispetto della normativa vigente. Il Partito Democratico a firma del suo segretario cittadino Sebbi Leonardo chiede chiarimenti in merito al procedimento che ha autorizzato i lavori si regge in una nota stampa i democratici pretendono risposte oltre che dal sindaco anche dagli altri assessori all'urbanistica e alla protezione civile intervenuti nel procedimento affinché, prosegue la nota indichino quali provvedimenti o direttive intendono assumere per accertare e sanzionare eventuali irregolarità il PD invita la sovrintendenza beniculturale di Catania a vigilare i DEM non fanno nomi e non specificano nel comunicato a stampa che si tratta dell'immobile di proprietà della famiglia dell'assessore con delega alla Polizia Municipale e Protezione Civile Rori Pietro Paolo l'amministrazione comunale tirata in ballo chiarisce che l'ufficio urbanistico dopo aver acquisito il necessario ha rilasciato un'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di risanamento conservativo dell'immobile in questione non è stata dunque autorizzata ne poteva esserlo dall'estito alcuna opera di demolizione totale del fabbricato siamo solo all'inizio di una querelle destinata a sollevare un polverone in città su una questione particolarmente spinosa su cui al momento il diretto interessato Pietro Paolo mai tirato in ballo dalla nota del circolo locale del PD preferisce mantenere un tono basso e non ha rilasciato dichiarazione ufficiale ma come dicevamo solo per il momento e torniamo adesso a Catania il comandante provinciale dei carabinieri Casarsa lascia il capologo Etneo per essere destinato ad altro incarico stamattina la consegna all'alto ufficiale dell'arma dell'elefantino d'oro una città dal respiro internazionale ma soffocata da criticità locali è quella che lascia non senza dispiacere ma nelle buone mani del successore ne è convinto il comandante provinciale dei carabinieri di Catania Alessandro Casarsa pronto ad andare a ricoprire il nuovo prestigioso incarico alla guida dei corazzieri al Querinale stamane a Palazzo di Città la consegna dell'elefantino d'argento riconoscimento simbolico dell'attività svolta nel capologo Etneo per due anni una città che è fatta di contraddizioni io ho scritto nel libro Bedda Catania perché nonostante non sia il mio dialetto però ho imparato da questa città a come tanti aspetti possano essere importanti per sconfiggerne altri che sono invece dannosi per essa e quello che io lascio è sicuramente una città migliore se fosse rimasto quale sarebbe stata adesso la priorità cioè cosa non si è potuto fare in questi due anni? le nostre organizzazioni non sono fatte di persone il fatto che cambino i comandanti è un momento di crescita se fossi rimasto avrei fatto quello che farà il mio successore il colonnello Gargaro amico dai tempi della scuola militare non ho proclami da fare in uscita ma solo quello di ringraziare tutte le persone che hanno contribuito in questo periodo con l'invito a continuare a farlo Catania deve indignarsi e avere la capacità di scegliere per la legalità e adesso parliamo del meteo ancora a temperature abbastanza alte almeno fino a sabato la colonnina di Mercurio si dovrebbe abbassare soltanto a partire dalla giornata di domenica come ci racconta nel prossimo servizio Daniela Cantarella vuole farsi ricordare prima di lasciarci definitivamente l'estate del 2015 una nuova ondata di calore sta colpendo da diversi giorni l'intera isola temperature definite dal record come quella della scorsa notte a Castellammare del Golfo dove la colonnina di Mercurio non è scesa sotto 29 gradi si classificano affermano gli esperti come le notti più calde di tutta l'estate quelle registrate gli scorsi giorni soprattutto nella fascia tirrenica ancora fino a sabato i livelli delle temperature rimarranno molto alti con 6-7 gradi sopra le medie stagionali il picco più alto si raggiungerà probabilmente domani quando si verificherà un allentamento delle correnti meridionali che però nelle aree interne dell'isola porterà forse un ulteriore aumento di temperature in questi giorni stiamo assistendo a questo flusso di correnti meridionali per l'espansione dell'anticiclone nordafricano che sta dando un fenomeno molto consistente di innalzamento termico soprattutto sulla fascia tirrenica è il cosiddetto FEN sono i venti di caduta che per compressione scaldano l'aria una volta superate le catene montuose settentrionali siamo vicini ai record assoluti per il mese di settembre comunque si tratta del valore più elevato per la seconda decada di settembre da quando abbiamo la stazione in quel sito molte altre stazioni hanno superato il loro record è una situazione che si polure in gran core ma già da sabato sera la colonnina di mercurio si abbasserà la rottura dell'ondata di calore è prevista per domenica quando le temperature cominceranno a scendere sensibilmente diciamo che l'azione dell'anticiclone nordafricano continuerà praticamente fino a sabato quasi indisturbato diciamo che avremo una lieve variazione sarà un po' un allentamento di questi venti meridionali a partire nelle ultime giornate diciamo della fase quindi venerdì e sabato avremo un allentamento di questa fase quindi avremo un minor riscaldamento sulla fascia settentrionale ma un riscaldamento un po' maggiore sulle aree interne non sarà difficile raggiungere anche picchi di 36-37 gradi mentre qua sulla costa continueremo ad avere valori anche di 33-34 gradi quindi decisamente molto elevati l'ultima pagina del TG è dedicata allo sport al calcio il Catania si prepara al debutto in Lega Pro previsto per domenica a Matera ma la dirigenza rossa-azzurra nel frattempo tenterà di mettere a segno un altro importante colpo di mercato rafforzando soprattutto il reparto avanzato intanto oggi andiamo a conoscere un altro di nuovi arrivati in casa rossa-azzurra parliamo del centrocampista ragazzi si arricchisce di una pedina importante l'organico del Catania è arrivato in rossa-azzurro anche Dario Bergamelli difensore 28 anni che ha firmato un contratto per le prossime due stagioni Bergamelli arriva dalla Novara oggi intanto ufficializzata la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Pietro Terracciano mentre insieme con Bergamelli arriva in Sicilia anche il suo ex compagno di squadra Desiderio Garufo anche lui proveniente da Novara sempre dalla Piemonte arriva il portiere Elia Bastianoni che è stato preferito dalla dirigenza Ciro Polito che sembrava dovesse tornare a vestire la casacca rossa-azzurra da un momento all'altro prima della chiusura del mercato fissato per domenica prossima il Catania potrebbe mettere a segno un altro colpo importante soprattutto per rafforzare il reparto avanzato i nomi che circolano sono sempre gli stessi da evacua plasmati con il primo autentico oggetto dei desideri della dirigenza etnea continuano intanto le presentazioni nei giorni scorsi è stata la volta del nuovo centrocampista Davide Agazzi Catania è scelta soprattutto per la piazza la storia piazza da Serie A una città una grande città piena di tifosi tifosi calorosi quindi è una scelta che si fa da sola quanto riguarda la condizione della squadra stiamo lavorando giorno per giorno pian piano si vedono sempre miglioramenti cerchiamo di arrivare il più pronti possibile per domenica fisicamente io comunque prima mi allenavo a Bergamo con l'Atalanta e quindi più o meno una condizione mia ce l'avevo buona e pian piano sto entrando sempre più in condizione speriamo di arrivare al meglio il mister mi sta utilizzando davanti alla difesa nel centrocampo A3 io comunque ho fatto ho giocato sia come mezzala che come play davanti alla difesa oppure col centrocampo A2 quindi mi trovo mi trovo bene comunque in tutti i ruoli del centrocampo bene non ci sono altre notizie eseguite qui questa edizione della telegiornale che potrete seguire tra poco sul sito www.rettv.it come di consueto vi lascio adesso alle previsioni meteo per la giornata di domani è tutto grazie per averci seguito arrivederci le previsioni meteo per il 17 settembre 2015 farà ancora abbastanza caldo su tutta la Sicilia i mari e i venti saranno calmi le temperature previste sulla fascia ionico-etnea a Catania una minima di 24 una massima di 36 gradi a Catania a Catania a Catania a Catania a Catania